Due giorni dedicati alle vaccinazioni dei lavoratori del mare. Oggi e domani, presso l'hangar vaccinale Atitec di Capodichino, si procederà alla vaccinazione del personale navigante della Campania, iscritto al SASN, con monodose Johnson & Johnson. Due open day vaccinali che arrivano a seguito delle numerose denunce e sollecitazioni, dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco, ai microfoni di TV City, sui ritardi e disagi per le prenotazioni e l'accesso alla piattaforma. Sulla questione non è mancato l'interessamento della vicepresidente del Consiglio regionale del Partito Democratico, Loredana Raia, e del deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo. Una situazione che si è sbloccata nei giorni scorsi, con il superamento di tutte le difficoltà organizzative. Una notizia accolta con favore dai lavoratori del settore, in fila questa mattina per sottoporsi alla vaccinazione.